Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per lavori tra il bivio con la variante di Valico La Quercia e Sasso Marconi. Siamo sul versante Emiliano. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata verso Genova e in uscita provenendo da Genova. Il traffico invece per il momento scorre in maniera regolare sulla strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per quanto riguarda la cantieristica notturna, sulla 1 panoramica stanotte in orario 21.6 sarà chiuso il tratto tra Rioveggio e l'allacciamento con la 1 direttissima ad Aglio in direzione Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!